Manca poco all'inizio del campionato e questo fine settimana è stato sicuramente un buon momento per verificare la forma. Come siamo messi? Siamo nel percorso che volevamo fare e stiamo abbastanza bene, stiamo trovando la nostra identità. Oggi anche più di quello che mi aspettavo, soprattutto nel pomeriggio, però vediamo se saremo realmente così precisi, così bravi come siamo stati oggi pomeriggio, anche nelle prossime settimane. Stiamo lavorando in questo senso, si vede sempre di più in allenamento, quindi è un buon segno e adesso abbiamo cinque giorni per preparare poi la prima di campionato. Comunque siamo sulla buona strada. Ma sì, sì, è stato un percorso lungo, eravamo anche quando gli amichevoli finivano 2-2, stavamo lavorando su delle cose specifiche. Oggi per caso probabilmente si sono incastrate tutte, il ritmo della battuta, il muro, la difesa, la variazioni dei colpi d'attacco, però bene, vuol dire che stiamo assimilando un pochettino quello che siamo e le caratteristiche che abbiamo. L'anno scorso ci avete fatto divertire, speriamo che anche quest'anno. Sì, sì, è dura quest'anno, è durissimo, è campionato a molte squadre di alto livello, nel nostro girone, nell'altro girone, quindi sarà dura, l'inizio è duro, abbiamo due scontri subito, Cremona e Trento, nelle prime tre giornate. Però dai, iniziamo a portare quello che siamo, raccogliamo tutto quello che possiamo all'inizio e poi pensiamo il percorso che vogliamo fare. Grazie.